alexa accendi piscina ok alexa accendi barbecue alle 19 ok salva a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi parliamo di domotica o meglio di come far diventare la nostra casa un po smart sì perché fino a qualche tempo fa era una cosa abbastanza complicata sia proprio dal punto di vista dell'installazione che anche dal punto di vista dei costi mentre adesso è diventato tutto molto più semplice chiunque può diciamo automatizzare una casa e soprattutto lo si fa spendendo adesso cifre davvero davvero poco importanti a me piace avere una casa smart quindi la sto rendendo sempre più smart quindi antifurto luci tutte queste cose che diciamo ci danno veramente delle agevolazioni nella nostra vita quotidiana e in tutto questo bisogna decidere con che marca diciamo far diventare la nostra casa smart perché comunque una volta che abbiamo scelto un marchio dovremmo cercare di diciamo acquistare i prodotti tutti di quella marca per avere un ecosistema appunto che interagisce bene tra un prodotto e l'altro poi ovviamente possiamo integrarci anche altre marche non è quello diciamo la cosa più complicata però secondo me se si riesce ad avere tutto di un marchio o meglio diciamo la maggiore quantità dei diciamo prodotti smart che andiamo a integrare la nostra abitazione sono della stessa marca secondo me è meglio e quindi il mio consiglio a livello di marca è miros questa marca che si trova su amazon quindi con tutti i vantaggi nell'acquisto di un prodotto su amazon e soprattutto un rapporto qualità prezzo secondo me il migliore poco tempo fa o meglio qualche mese fa avevo portato la recensione delle valvole smart sempre della miros queste valvole che andavano collegate o meglio vanno collegate ai caloriferi e ci danno la possibilità di essere regolate tramite la sua app miros quindi con lo smartphone o addirittura con alexa o con google quindi potremo andare intervenire sulla valvola che abbiamo installato in una determinata stanza la temperatura e via dicendo ma non è di questa che oggi volevo parlare questo solo per dirvi che avevo portato un prodotto miros che era questo mentre adesso sto integrando altri prodotti miros sempre nella mia abitazione e il prodotto di cui voglio parlare oggi è questo ragazzi sembra una una diciamo una presa doppia per esterno classica mentre è una presa doppia sì ma smart quindi abbiamo una presa che ci permette di collegare due dispositivi esterni quindi io questa la uso per la piscina perché appunto va all'esterno perché è ip 44 quindi ha un grado di impermeabilizzazione agli spruzzi agli schizzi e alla polvere quindi tutto il suo sistema hardware che c'è all'interno appunto per essere una presa smart è protetto da tutto questo quindi schizzi polvere non gli fanno assolutamente niente ovvio non la possiamo immergere nell'acqua nella possiamo lasciare sotto a un diluvio però la possiamo tenere all'esterno quindi l'umidità gli schizzi la polvere come vi ho appena detto non gli fanno assolutamente niente e la cosa bella che funziona praticamente con tutto quindi funziona con l'applicazione miros che è la testa che fa funzionare le valvole e che fa funzionare tantissimi altri prodotti appunto miros quindi con un'applicazione solo possiamo far funzionare tantissimi prodotti quindi creare le room time quindi farla accendere e spegnere il terminato orario farla accendere quando vogliamo noi o addirittura se vogliamo possiamo utilizzarla con alexa con google o con apple home kit quindi praticamente compatibile con tutto quindi potremmo dire ad alexa di accendere non so alexa accendi piscina praticamente lei fa accendere la pompa della piscina potremmo dire alexa accendi non so l'irrigazione perché abbiamo collegato l'irrigazione giardino lei accende l'irrigazione del giardino o possiamo collegare qualsiasi altro prodotto io ci collego la piscina e il barbecue quindi sono i due dispositivi che io collego a questa multipla da esterno smart quindi adesso proviamo a collegarla appunto alla sua applicazione ea ad alexa e google quindi per farvi vedere come è semplice fare tutto questo e una volta che l'abbiamo fatto non lo faremo mai più ovviamente quindi basta collegarla ad una presa di corrente e vedete che si è già accesa vedete che sta lampeggiando la lucina rossa quindi la luce non è tutta verde quindi vuol dire che lei attualmente non è connessa a niente praticamente ha bisogno di essere connessa appunto a qualcosa che la comandi allora per prima cosa colleghiamola all'applicazione miros che è poi l'applicazione che può comandare tutti questi dispositivi miros che poi nei prossimi giorni vi porterò anche degli altri dispositivi che poi nei prossimi giorni vi farò vedere anche qualcos'altro della miros sempre compatibile appunto con questa applicazione ecco poi nei prossimi giorni vi farò vedere qualcos'altro appunto sempre della miros compatibile con tutto questo ecosistema allora ovviamente andiamo sull'app store in questo caso o su google play scriviamo miros e l'applicazione che dovete scaricare questa la prima vedete io ovviamente ce l'ho già installata quindi faccio apri voi invece la dovete installare e qua vedete già la schermata dove vedrete tutti i dispositivi che avete installato in questo caso nel mio caso attuale vedete le valvole dei caloriferi a questo punto non ci resta che fare più qua in alto a destra andare a selezionare in tutti i dispositivi vedete quanti dispositivi fa la miros tutte per automatizzare e renderci tutto più semplice all'interno della nostra abitazione andiamo a selezionare smart outdoor plug ok e che vedete che è questa a questo punto ci dice che la lucina rossa deve lampeggiare infatti sta lampeggiando facciamo prosegui e ci dice che dobbiamo andare all'interno del nostro wifi e selezionare la rete wifi miros quindi aspettiamo che la rilevi eccola qua aggiungi a casa allora questo quello che stiamo vedendo adesso lo facciamo con un telefono ios con androide c'è un passaggio in meno nel senso che con ios una volta che abbiamo aperto la rete wifi miros ci manda direttamente home kit ma non perché dopo possiamo usare solo home kit di apple solo per la configurazione dopodiché diventa tutto uguale come con androide con androide ovviamente questo passaggio non c'è perché un kit non è disponibile all'interno di un telefono android quindi qua con apple c'è un passaggio in più quindi a questo punto non ci resta che alzare il telefono e andare ad inquadrare il qr code che abbiamo qua dietro al prodotto miros a questo punto vedete che inizia la connessione ok hai aggiunto smart wifi ecco vedete che il dispositivo è stato aggiunto quindi adesso in home kit l'abbiamo già aggiunto quindi se siamo abituati ad usare un kit potremmo già utilizzare il prodotto vedete che abbiamo il nome del prodotto e outlet outlet che poi potremmo rinominare o meno sono le due prese diciamo presa 1 e presa 2 se vogliamo a questo punto facciamo avanti e fine ok qua all'interno di home kit l'abbiamo installato però a me non interessa utilizzare home kit quindi esco e vado ad aprire l'applicazione miros a questo punto vedete che ci appare qua sopra evidenziato in azzurrino il nostro prodotto smart outdoor plug quindi faremo aggiungere processo di aggiunta può richiedere un minuto quindi aspettiamo che faccia il suo processo di aggiunta quindi ci dice che lo troveremo nella nostra home page appena avrà finito quindi facciamo ok adesso usciamo quindi entriamo nella nostra home page andiamo a ricaricare la schermata quindi vedete che adesso abbiamo il nostro dispositivo collegato all'applicazione miros quindi si vado aprire l'applicazione o meglio appunto la schermata del dispositivo interna applicazione o switch 1 switch 2 quindi sentite che si vado a cliccare in questo momento abbiamo il dispositivo acceso ok tutte e due le prese sono accese se io clicco su switch 2 quindi questo in teore dovrebbe essere ok significa fatto tac cioè il dispositivo si è spinto si lo vado a rischiacciare l'aria acceso stessa cosa di qui ok sentite il tac che fa accendere spegnere i due dispositivi quindi all'interno dell'applicazione miros l'abbiamo fatto poi da qua possiamo rinominare quindi non avere switch 1 switch 2 potremmo chiamarla non so piscina o barbecue come nel mio caso perché io le utilizzo per queste due cose ma se uno può chiamarla piscina irrigazione o ricarica tagliaerba se ha un tagliaerba elettrico cioè in base a quello che diciamo il dispositivo che ci va collegare può rinominare tranquillamente all'interno sempre dell'applicazione cliccando qua in alto vedete potete andare a modificare tutto poi sempre potete anche mettere un'immagine diversa all'interno del simbolino se non volete questo simbolo poi ovviamente potete andare a modificare l'accensione lo spegnimento automatico quindi se andate su round time potete andando cliccando su più andare a selezionare il prodotto vedete smart auto plug e selezionare quale volete accendere quale volete far spegnere gli orari cioè potete impostare tutto quello che volete quindi in base a quello che è la vostra esigenza e le vostre situazioni quindi tutto in maniera super semplice vedete che prosegue impostate l'ora la data il giorno cioè tutto come più vi fa comodo quindi avete visto come semplicissimo integrare questo prodotto all'interno dell'applicazione miros ma poi ovviamente l'altra parte bella di questo prodotto della miros o come tutti i prodotti da miros è l'integrazione con i prodotti alexa o google anche quindi facciamo un esempio di integrazione con alexa quindi andiamo aprire l'applicazione alexa a questo punto basterà cliccare su dispositivi una volta cliccato su dispositivi ci basterà fare un più qua in alto a destra aggiungiamo il dispositivo a questo punto basta selezionare che tipo di dispositivo è quindi una presa selezioniamo presa andiamo a selezionare la marca del dispositivo in questo caso miros a questo punto una volta fatto tutto questo basterà fare trova dispositivi alexa farà la sua ricerca e cercherà ovviamente i dispositivi o meglio questo dispositivo in questo caso questa cosa per le valvole smart che vi ho fatto vedere prima che avevo recensito tempo fa o il prodotto che andremo a vedere nei prossimi giorni sempre miros quindi vedete come tutto è semplicissimo poi ovviamente uno fa quello che gli serve nel senso se non vuole integrare con alexa non lo integra usa sulla pressione miros se vuole usa lexa o se no usa google se usa un kit praticamente una scelta a 360 gradi su come comandare questi accessori smart della miros ok tre dispositivi trovati connessi perché tre dispositivi perché lei calcola uno tutto il dispositivo intero quindi proprio la presa completa poi e poi le due prese singole quindi per questo sono tre dispositivi quindi infatti vediamo che c'è smart outdoor plug poi abbiamo un switch 1 switch 2 quindi anche qua con alexa potremo decidere se rinominare non lasciare switch 1 switch 2 chiamarle come vogliamo e basterà dire alexa accendi switch 1 o alexa accendi piscina e alexa farà partire tutto ovviamente alex adesso non ce l'ho qua in sala quindi non mi sente però in maniera semplicissima abbiamo già integrato questo dispositivo anche con alexa adesso invece proviamo ad integrarlo con google quindi apriamo google home a questo punto ci basterà fare il più in alto a sinistra quindi facciamo configura dispositivo selezioniamo hai già configurato qualcosa ok aspettiamo che lui rilevi vedete miros e cinque dispositivi quindi aspettiamo che faccia la sua procedura ok vedete che ha trovato tutti i dispositivi miros quindi i termostati e anche qua ha trovato smart outdoor plug presa smart switch 1 presa smart switch 2 presa smart e anche qua una volta arrivato in questa schermata basterà selezionare i prodotti che vogliamo integrare con google e li selezioniamo e li integriamo con google quindi basterà dire ok google accendi switch 1 e lui farà partire switch 1 ok google accendi piscina a quel punto partirà l'accensione della pompa della piscina quindi ragazzi avete visto com'è semplice attivare ed integrare un prodotto all'interno della nostra abitazione o meglio un prodotto smart all'interno dell'applicazione poi con miros si ha veramente semplicità e anche risparmio perché comunque si spendono cifre abbastanza non importanti e si riesce comunque ad avere una casa smart perché prodotti miros sono davvero ragazzi ve lo garantisco è un rapporto qualità prezzo davvero davvero top quindi ragazzi link in descrizione di questo prodotto quindi acquistabile su amazon con tutti i vantaggi appunto di acquistare un prodotto su amazon velocità come sapete reso in caso di malfunzionamento quindi tutto semplicissimo l'acquisto è semplicissimo avete visto appunto l'installazione del prodotto quindi link in descrizione con un coupon sconto di 5 euro mi raccomando dategli un'occhiata che secondo me i prodotti miros valgono davvero davvero tanto quindi ragazzi questo video in cui vi ho portato questo prodotto della miros e questa presa multipla da esterno e con la sua prima attivazione sia con google home che con alexa che con apple home kit o con la sua applicazione miros se vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su seguitemi su instagram per sapere in anteprima cosa arriverà qua su youtube o anche cose che non arriveranno mai qua su youtube ma che su instagram magari arriva qualche notizia qualcosa lì la trovate quindi seguitemi su instagram iscrivetevi al canale 3gm offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va tipo per avere degli sconti come questo di cinque euro di un prodotto della miros e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità ciao